Lo stadio americo Liguori ritorna al centro del dibattito tra la Turris e il comune editore del Greco. Non è mistero infatti che dietro la volontà del patrocolo Antonio di mettere in vendita la società fino al prossimo 15 giugno ci sia anche la situazione relativa all'impianto di Viale Ungheria. Nelle scorse ore è andata in scena un vera e propria botta risposta tra la dirigenza e le istituzioni della città corallina. Tutto parte dalla lettera a firma di Gaetano Frullio presidente del consiglio comunale editore del Greco e l'indirizzata al presidente Colantonio. Ti scrivo per dirti quanto mi dispiace aver appreso che sei intenzionato a lasciare la guida della Turris scrive Frullio. Spero con tutto me stesso che ciò non accada e che insieme potremo ancora gioire per i nuovi e più ambiziosi traguardi a cui la nostra amata vorrà ambire. Sullo stadio aggiunge se dovessi lasciare la società ti chiedo di tranquillizzare i tifosi riguardo l'utilizzo dello storico stadio americo Liguri perché questo è sempre stato la casa della squadra e continuerà ad esserlo. Tempestiva la replica di Colantonio da presidente della Turris afferma ti devo però far notare che non posso raccontare a chi può essere interessato ad acquistare la Turris aria fritta. Sicuramente valuterò le persone in base al progetto ma ciò che mi preoccupa sono le cose che competono all'ente che ancora oggi a distanza di un anno non sono state tutte realizzate. Infine la richiesta in vista della prossima stagione ti chiedo se è nelle tue possibilità di far redigere perlomeno gli atti che servono alla Turris all'iscrizione anzitempo al campionato prossimo in modo da evitare che tutto possa ripetersi come l'anno scorso senza perderci in chiacchiere e promesse.